ma ti portiamo a fare la mia mamma sapeva roba è rapida e veloce rapida e veloce è venere ecco la giacchiappata eccolo qui io sapevi che lì mio marito è non culo prende qua non ci hanno manco scritto a sia giusto? no ti faccio fare un primo piano possono andare a quarto di cuore? no no questo è l'ingresso questo l'ingresso è importante ecco qua ecco qua ma venite caro ecco qua e chi si sta andando qua? no venivo con noi e tu divertisci chi era? ah no lo so mi si gana e c'è una macchina in lato mi sono stata curiosa qui si può trattare mi sorprego no a parte i due c'è un tiro davanti a tutto guarda il sementro facciamo il giro però ne sono tre si sono tre ah però con la scuola ecco lì guarda che fai guarda qua ma non l'ambigia non ti preoccupa devo riprendere questa parte qua anche lì sanzo sai va bene adesso è una riechi lago patisca c'è la nanza che smiglia ma guarda lì i sei è un sessore che fai a fare non a scuola dove non si toglire a scuola io già sentito e c'è quello davanti è a Bosco Reale stanno uscendo a Bosco Reale quello di prima è uscito a Bosco Reale oh Giulia sono arrivati non ti preoccupare si stiamo oh si lei fai la brava si cara oh fate i bravi no perché ciao va bene ciao stiamo su un minuto un minuto un minuto ma tutto quando ero sto a qualcuno potessi tornare chi l'ha fa così stanno arrivando due compattatori che stiamo seguendo da Napoli stanno qua stiamo vicino all'imperiale noi siamo dietro voi sistematevi già con la macchina o non a piedi mettetevi con la macchina di traversa all'ingresso della discarica e bloccateli si devono bloccare perché gli dobbiamo far cacciare non tenere una scusata ma ripresa tutte cose non si scusa non si scusa non si scusa siamo solo da dalla no no pregno speranza e io andiamo a pia a killata la no può E' un po' per dimma. E' un po' per chi l'altra c'è un po' per chi l'altra c'è un po' per chi l'altra c'è un po' No? E' da andare avanti con questa cosa, non è caldo Ah, in serio, guarda che tenne là sotto i bus che scendono a frangere lì sotto al cario, no? Tiene le bus che gli scendono così. Come già chiamano l'ARPAC Ah, come già chiamano l'ARPAC, va? E' un po' con la segreteria delle zone. E' un messaggio. Diceva appena ti svegli devi venire su, noi siamo davanti ai camion che arrivano da Napoli Non ringrazio dalla sala Tanti che sono sveglioni Salve, sono Anna Rita delle Mamme Vulcaniche Senta, allora, noi abbiamo seguito dei camion da Napoli e li abbiamo fermati davanti alla discarica Vai là, vai là Fermati qua dietro Le facciano subito Facciano a prendersi Cosa è una scoperta? Stiamo facendo una discarica E qui si chiama l'ARPAC Si è Andorza No, non muole Dei già andiamo a posto No, non, non muole si deve fare accertare grazie grazie